Domenica questa maratona di Pescara, vogliamo spiegare un po' come si correrà? Diciamo che la maratona parte di fatto sabato pomeriggio con un bel villaggio a Piazza Salotto, con tutto quello che può servire al podista per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda il divertimento perché faremo anche degli stand in cui si giocherà con Conad, si proveranno scarpe appoggio grazie al Rebook Italia e comunque si faranno delle degustazioni, manifestazioni, insomma Piazza Salotto già sabato comincia a sentire aria di podismo e soprattutto sarà punto di partenza e arrivo di una manifestazione che corre, perché sabato si correrà la 6 ore beach, una maratona nella maratona che vede già quasi un centinaio di partenti, di maratoneti che vengono un po' da tutta Italia. Domenica è una giornata proprio di trionfo, speriamo tutto vada per il meglio perché alle 8 c'è il ritrovo ma già alle 9.15 partono le manifestazioni agonistiche centrali che sono la maratona, la mezza maratona e la staffetta che quest'anno ha avuto una crescita impressionante perché si è passati dalle 15-18 staffette degli anni scorsi, ne abbiamo già quasi 30, il che significa oltre 100 partecipanti ad un evento collaterale. Partita la gara vera e propria, subito spazio ai bambini che dalle 9.25 su Corso Umberto I faranno delle vere e proprie gare, uno sguardo anche se la gara è WISP, quindi l'ente di promozione sportiva per eccellenza in Italia, guarda e insegna attraverso l'agonismo come valore proprio di formazione caratteriale. Si suddivideranno per tutte le fasce di età e correranno sempre con partenza e arrivo su Piazza Salotto, sarà credo forse l'evento più bello. Concluse le gare dei bambini, quindi dalle 9.25 alle 10 circa, partirà la passeggiata che probabilmente è l'elemento collaterale che più ci ha dato soddisfazione perché era quasi inesistente gli anni scorsi, adesso è diventato un vero e proprio evento che vuole una propria partenza, un proprio percorso, solo 3 chilometri per tutti, a passo libero, normalmente si passeggia, qualcuno volesse correre, c'è posto per tutti.